La cultura è uno strumento essenziale per lo sviluppo e la crescita della società. L'obiettivo del Dipartimento alla Cultura Italiana della provincia di Bolzano, attraverso il servizio giovani, è quello di incentivare un'identità culturale e sociale orientata al dialogo e al plurilinguismo e di accrescere nello stesso tempo la responsabilità dei ragazzi, rendendoli soggetti attivi attraverso l'ideazione continua di progetti ed iniziative. Ascolto, confronto e partecipazione sono le linee guida che muovono l'azione quotidiana dell'Ufficio del Servizio Giovani, l'Ufficio dei Giovani.